Venito fuori, ok, devi coprire la porta, va diagonale, così, bravo. Va bene, ma ci devi mettere la voce. Dai ragazzi, ma è così difficile aiutare mia? Dai, eh. No, così, eh, con la voce, senza paura. Una sì, dieci no, una sì, dieci no, faccio gol. Fai gol, fai gol. Basta, fì. Dai, parla bene. Dai, eh. Va bene, è tutto giusto, manca sempre la solita cosa. Tutto giustissimo. Potevi prendere dieci lode, otto meno. Eh, così. Bravo. Bravissimo. Non troppo, eh. Un po' meno, un po' meno, eh. Alza il livello di convinzione come prima e blocca le colite. Al massimo in due tempi, ma la devi tenere con la palla lì. È una palla morbida che arriva da 20 metri, devi tenerla. Va bene, va bene, va bene, a meno, ci hai provato. Va bene. Voglio vedere che ci provate. Poi se sbagli, fa niente. Non mi piace se ci andate a smanacciarli, quei palloni lì, che non serve a niente. Devo provare a tenerla. Perché quei piedi? Giù bene con le mani. Giù bene con le mani a tenerla, eh. Dai, sui piedi, sui piedi, sui piedi, sui piedi. Dai. Buono. Bravissimo. Sempre otto meno, però, eh. Comunque è una santa roba. Bravo, ottima scelta di tempo. Bene, bravo. Porta il campo, devi coprire tutto. Un pelo più fuori. Più fuori, più fuori dalla riga. E non troppo, che devi coprire la porta, eh. No. Arriva questa. Bravo. Mamma, la voce, la voce. Va benissimo, eh. Molto bene nell'uscita, però manca la voce. Leo, mi guardi? Sì. Bravo. Però manca sempre uno, fa 31. 3,25. L'ultima. Facciamo gol, Ale. Sì. Stop. Lari. Ragazzi. Sì. Sì.